Buongiorno amici di Humanistic Valley, eccoci di nuovo in giro per la Sardegna, dove siamo Mattia? Siamo a Dorgali, nel comune di Dorgali la qualità è a Calagonone, siamo qui per fare le riprese al Muraghemannu e il tempo è bello, ci sono una ventina di gradi, il mare è splendido, non vediamo l'ora di cominciare a lavorare. Esatto, anche di fine. Scusci qui su una strada sarda dopo che abbiamo finito di girare l'ultimo video della giornata, l'ultimo video della settimana direi, siamo preceduti da un greggio di pecore, nel tornare a casa abbiamo anche avuto questo spettacolo. E' fantastico perché stanno andando da sole, credo che ci sia solo un cane che le guida davanti, ma poi conoscono, si c'è solo un cane, non vedo il pastore, conoscono perfettamente il loro mestiere, che è veramente uno spettacolo, cose che altrove non si vedono spesso. Decisamente no. Piano, se qualcuno gli viene lo scrivizzo di buttarsi sotto... Piano, se qualcuno gli viene lo scrivendo, non vedo il pastore, non vedo il pastore, non vedo il pastore.